Ecco noi siamo oggetto della grazia di una parola molto seria, molto dura anche, il Signore usa espressioni scandalose e per l'appunto parla dello scandalo, dice se la tua mano è motivo di scandalo, tagliala, meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella genna, nel fuoco inestinguibile, mamma mia, tagliarsi una mano, che vuol dire? Va preso alla lettera? È un'espressione simbolico e iperbolica, senza ombra di dubbio, non va preso alla lettera, non c'è ombra di dubbio, che questo è un discorso paradossale. Noi dobbiamo ricordare sempre che il linguaggio tipicamente ebraico, semitico, è paradossale. La Bibbia si esprime molto spesso per paradossi, chi non accetta il paradosso come sistema di elaborazione dei concetti e non può leggere la Bibbia. Chi ha la rigidità di prendere le cose alla lettera, come alcuni cristiani fanno qua e là nel mondo, si ritrova poi con delle contraddizioni assurde, perché logicamente la Bibbia usa un linguaggio paradossale. Allora, vediamo un pochino questo paradosso, che però mantiene tutta la sua aggressività e la sua serietà, che non va scontata di un centesimo, di che cosa parla. Allora, noi nella prima lettura abbiamo il caso in cui Mosè deve estendere il suo ministero alla collaborazione, all'aiuto. E questa è sempre una cosa molto importante, le persone intelligenti collaborano e delegano. Ecco, Mosè sa delegare e non trattenere per sé tutto il ministero di governo che deve esercitare verso il suo popolo. E allora due dei 72 eletti che devono con lui collaborare, che devono ricevere lo spirito per farlo, sono rimasti nell'accampamento, sono indisposti, non sono potuti andare. E questi due ricevono lo spirito, malgrado non siano nella riunione ufficiale, non siano nel momento in cui scende lo spirito. E questa irregolarità di protocollo, questo sbaglio nel posizionamento rispetto alla organizzazione della distribuzione pro capite dello spirito santo, fa saltare i nervi di un giovane. I giovani molto spesso sono rigidi, più dei vecchi. Molto spesso i giovani sono molto più attaccati alle regolette perché di fatto i giovani si sentono tendenzialmente giusti. Non dobbiamo mai dimenticare la scena della donna adultera quando Gesù dice che è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei e cominciando dagli anziani se ne vanno. I giovani sono gli ultimi che stanno con la pietra in mano dubitando che forse hanno il diritto di tirarla perché i giovani sono un po' così con il delirio infantile d'onnipotenza, si sentono sempre precisini, bravini. E qui c'è un giovane che si erge contro questa irregolarità e allora Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè, fin dalla sua adolescenza, non è per caso che viene citata l'adolescenza, è il giovane, ma bisogna impedirli. Ecco, noi siamo di fronte a queste cose, le regole che vincono sul dono. C'è il dono dello Spirito Santo e Mosè che dice, ma che sei geloso tu per me? Fammi essere geloso in primis, cioè in prima persona singolare, ove lo fossi. Ma fossero tutti i profeti nel popolo del Signore, volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Ecco, una delle tentazioni della vita spirituale è che quando abbiamo una cosa bella ce la dobbiamo avere solo noi. O pensiamo che Dio non la possa dare anche ad altri. Molto spesso nella Chiesa si muore di fuoco amico, ti sparano addosso proprio gli altri fratelli. E questo è tanto, tanto grave. Questo è più grave di quanto noi possiamo pensare. Perché di fatto questo viene collegato come attitudine, questo fatto di separare, pensare no, siamo solamente noi, la cosa la facciamo solamente, noi siamo i migliori, noi siamo quelli che hanno capito tutto, noi siamo quelli che hanno i veri diritti a fare questo, quello. Ecco, per questo atteggiamento di esclusione, di separazione, di distinzione all'interno della Chiesa, all'interno della comunità cristiana, per cui c'è chi ha diritto di fare una cosa e chi non la deve fare, e tutte queste cose qui, ecco, per questo il Signore parla con una durezza inaudita. Dovremmo proprio prendere consapevolezza che frasi così dure Gesù non ne dice tanto spesso, anzi, quasi mai. E forse questa è una delle più dure, forse la più dura che c'è nel Nuovo Testamento. Colui che scandalizza, cioè si oppone, scandalizza, non è una parola greca che vuol dire sbattere contro qualcosa, cioè crea un'opposizione, crea una contrapposizione, è qualcuno che è meglio che si tagli, che si mutili, che faccia del male a se stesso piuttosto che fare del male all'altro. Mamma mia, meglio per te entrare nel Regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi e essere gettato nella genna. È la genna l'alternativa. Siamo al fatto che chi crea la scomunione, chi crea il fatto che noi siamo meglio e noi siamo peggio, voi lo potete fare, non lo potete fare, se fai questo non fai quello, mamma mia, queste appartenenze, questo mondo d'appartenenze, c'è una sola appartenenza, si chiama Chiesa Cattolica, un solo corpo, un solo battesimo, un solo Dio, un solo Signore, un solo Spirito. Ecco, chi continua a fare distinzioni, alimenta distinzioni, anzi ha la propria forza nelle distinzioni, nel senso di appartenenza. Ecco, meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e si è gettato nel mare. Mamma mia, questa è una cosa tostissima, durissima, serissima. Chi di noi non ha mai sbagliato su questo? Tutti, presto o tardi, non ci siamo resi conto, o forse ci siamo anche purtroppo resi conto. Stavamo creando una contrapposizione. Stavamo dicendo lo Spirito Santo ha i suoi destinatari predeterminati, come se Dio non sapesse dare lo Spirito Santo a chiunque, non sapesse fare nuove creature anche di persone che noi possiamo dire ma quello no, quello non gli spetta, quello non ha diritto. Dio può fare di un impio, un santo, in un attimo, se trova il permesso per farlo. Perché noi sappiamo che quando Dio opera in una persona, primo, è Dio che opera, e quindi perché? Perché mettersi a mettere le regole. Secondo, sicuramente quella persona gli ha dato il permesso, perché Dio non potrebbe operare senza il permesso. Allora questa domenica noi siamo di fronte alla cosa che veramente conta. Non creare spaccature, lavorare costruttivamente, gareggiare nello stimarsi. Ma perché le cose devono essere sempre distinte, contrapposte? Che noia, quanto siamo vulnerati dalla testa ai piedi. Il corpo di Cristo è vulnerato da questi, distingo dalle appartenenze che il Signore ci conceda di sapere che quello che veramente conta è essere uno in Cristo. e la comunione è molto più importante di qualunque altro problema che possiamo avere nella Chiesa. È il problema più grande, è l'amore, è l'unità che il Signore ci dia di tagliare ciò che in noi è contro la comunione e di difendere il dialogo, la comunione con i fratelli, il rispetto e la stima degli altri dovremmo gariggiare nello stimare a vicenda. Noi gareggiamo e basta.